Don Marco Paleari, parroco della comunità pastorale di San Gottardo e San Giovanni Paolo II, ci troviamo nella chiesa dedicata a San Massimiliano Colbe. C'è una bella iniziativa dei libri a disposizione, dei fedeli e di chi abbia voglia appunto di leggere, ma all'interno della chiesa. Di che cosa si tratta Don Marco? Alcuni fedeli liberando le proprie biblioteche ci hanno portato questi volumi. Chiaramente grazie ad alcune persone abbiamo selezionato alcuni di questi volumi e man mano intendiamo mettere a disposizione gratuitamente portandoli a casa, perché? Perché ci teniamo alla lettura evidentemente e poi abbiamo una sezione dedicata alla narrativa, saggistica e poi anche quelli prettamente religiosi. Man mano crediamo sia utile selezionare alcuni di questi titoli, mettele a disposizione affinché il fedele, soprattutto magari nel tempo d'estate, possa utilizzarle.